Una frode fiscale da un milione e mezzo di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara che nel corso di un blitz anti-riciclaggio ha fermato un traffico di denaro messo in piedi tra Italia e la Croazia da una rete di imprenditori e prestanomi pescaresi con l'obiettivo di sottrare alla giustizia un patrimonio di ricavi non dichiarati di mezzo miliardo di euro. A segnare l'epilogo di questa lunga storia di frodi fiscali nel settore edilizio è Buildgate, l'operazione di legalità senza frontiere dei militari di Pescara che hanno frenato la fuga di capitale in terra croata su coordinamento della Procura della Repubblica e con la collaborazione per il tramite di Eurojust l'Agenzia dell'Unione Europea per la Cooperazione Giudiziaria Penale degli organi croati collaterali che hanno congelato il denaro. L'indagine ha inchiodato un pool di impresari relative teste di legno coinvolti in un giro d'affari finalizzato a riciclare all'estero proventi derivanti da reati di natura fiscale emersi già nel 2015 tra cui fatture per operazioni inesistenti per oltre 500 milioni di euro e che hanno creato una voragine di 100 milioni di euro di imposte e vase per cui nel 2019, sempre nello stesso ambito, con l'applicazione del sequestro come misura di prevenzione patrimoniale erano stati requisiti beni, denaro, rapporti bancari, partecipazioni societari e ville lussuosissime per un valore di oltre 16 milioni di euro. La fuga dei capitali inizia dall'indomani della nascita in Croazia di due imprese fantasma, esistenti solo sulla carta ma necessarie per aprire conti correnti di comodo dove versare e depositare il denaro. Il meccanismo del riciclaggio, aggravato dalla transnazionalità è andato avanti con il rimpallo di consistenti somme tra i conti intestati alle società croate compiacenti.